Non ci sono stati intoppi per fortuna e per adesso stiamo lavorando e abbiamo lavorato nel migliore dei modi quindi aspettiamo il debutto per vedere un po' com'è la situazione. L'anno scorso è stato un anno un po' particolare perché appunto in questi giorni, a fine gennaio, ero ancora praticamente in ferie e ho iniziato tardissimo, però è stata una fortuna fare il giro perché mi ha permesso di ritrovare un po' le sensazioni dell'anno precedente e poi sono riuscito a fare qualcosa di buono però diciamo che non è stato proprio un anno eclatante. Ma alla fine vincere è sempre difficile ovunque, che sia in America o al Giro d'Italia o in qualsiasi gara è difficilissimo vincere quindi è stata una grande soddisfazione per me ma del resto anche tutti gli altri risultati sono delle grandi soddisfazioni. Paura più di non poter ritornare ad andare in bici, paura proprio di non riuscire più a tornare ad alti livelli quello è un po' sì perché diciamo che quando fai parecchi mesi fermo e poi torni e fai fatica vedi gli altri che vanno di più e tu sei lì che comunque sia quasi non ti riconosci più ti viene un po' la paura di esserti un po' perso. Ma quest'anno vediamo la preparazione, per adesso procede al meglio, abbiamo lavorato bene quindi vediamo con la massima tranquillità iniziamo le gare e poi man mano vediamo un po' com'è la condizione. Magari sì, le gare un po' più brevi, piccole corse a tappe magari sì, comunque adesso quest'anno 23 anni quindi il terzo anno tra professionisti un po' di gamba è stata fatta, un po' di esperienza pure magari qualche piccola corse a tappe sì, parlare di grandi corse a tappe sicuramente è un po' una follia però possiamo iniziare a vedere con qualche piccola corsa a tappe ma essendo uno scalatore magari il sogno c'è però c'è tutta una stagione davanti, ci sono tantissime gare quindi è presto ecco parlarne però sicuramente guardando il percorso è un percorso adattissimo perché no dai, sognare non costa nulla.